Questo è quello che succede il sabato e la domenica. Se durante la settimana abbiamo un po' d'acqua, arrivato il sabato e la domenica, questo è il risultato. Acqua neanche se t'ammacchi. Questo per quando riguarda il bagno. E questo per quanto riguarda la cucina. E per due giorni di seguito siamo costretti a rimanere con le robe sporche, con i piatti sporchi. Questa è una vera indecenza. E per aver reclamato quello che noi abbiamo diritto, ci hanno dato lo sfratto. Grazie signori. Grazie dottore dell'Asla. Molto gentile.